Musica Rieccoci pronti per un nuovo appuntamento con le previsioni del tempo. Previsioni che non promettono nulla di buono. La circolazione depressionaria si afferma sempre di più, interessando l'Europa, ma soprattutto il nostro territorio. Il tempo risulterà quindi condizionato e sarà rappresentato da episodi di variabilità che daranno luogo a rovesci e temporali. Il tutto in un contesto di temperature gradevoli e solitamente in linea con le medie stagionali. Entriamo ora nel dettaglio del nostro territorio provinciale per prepararci alla giornata di mercoledì, dove nella notte e mattinata permarranno condizioni meteorologiche inaffidabili, anche se in pianura ci saranno comunque molti spazi soleggiati. Sui rilievi invece prevarranno addensamenti più compatti con conseguenti piovaschi o temporali. Anche nel pomeriggio la situazione sarà prevalentemente incerta e la possibilità di fenomeni rimarrà più alta sui settori montani, anche se col passare delle ore si stenderà anche alle pianure adiacenti. La serata continuerà a mostrare una certa inaffidabilità, si mostrerà quindi adeguata ulteriori occasioni per piogge e episodi temporaleschi. Terminiamo con il quadro delle temperature che anche per oggi tenderanno a diminuire sia sui valori massimi che su quelli minimi e quasi ovunque saranno al di sotto dei 30 gradi e su valori anche inferiori rispetto alla giornata appena passata. E con questo ci siamo detti tutto, vi aspetto domani per un nuovo aggiornamento. Arrivederci!